Una nuova struttura sportiva sulle ceneri dell'ex pallone tensostatico di via Grottaglia a Francavilla. Il Comune ha avviato una consultazione preliminare di mercato per verificare l'interesse dei privati in merito alla proposta progettuale di recupero dell'abbandonato impianto sportivo. Il progetto proposto dall'Ufficio Tecnico Comunale prevede come destinazione d'uso la creazione di un centro tennistico. Nel dettaglio è prevista la realizzazione di un parasporto polivalente, due campi dai tennis esterni, un campo da calcetto interno, una palestra, una zona ristoro e un'area da gioco attrezzata esterna. Con questa consultazione preliminare di mercato, dichiara il sindaco Antonello Denuzzo, diamo il via ad un percorso partecipato per il recupero di una struttura sportiva dimenticata ma anche abbandonata da anni. Con il nostro Ufficio Tecnico, prosegue il sindaco, abbiamo predisposto un'ambiziosa proposta progettuale che consentirà alla città di avere un nuovo centro sportivo, questa volta incentrato sul tennis. La consultazione ha lo scopo di acquisire maggiori informazioni sulla potenzialità ma anche sulla sostenibilità economica dell'investimento dei privati. L'avviso pubblico è consultabile sul sito internet del Comune. Il termine ultimo per partecipare è fissato per il prossimo 31 agosto. Già nel 2016 la precedente Giunta Comunale guidata da Maurizio Bruno diede il via libera per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo impianto sportivo. Tra l'ipotesi avanzata è la possibilità di trasformare il vecchio tensostatico dove alla fine degli anni Ottanta si giocavano incontri di basket in un campo da tennis. L'incuria ha letteralmente spazzato via l'enorme pallone tensostatico. Questa struttura sportiva in disuso da moltissimo tempo rappresenta una vera e propria vergogna visibile ad occhio nudo dalla strada. Le incursioni dei vandali nel corso degli anni hanno poi completato un quadro già di per sé desolante, devastando ogni cosa, campo da gioco, servizi igienici, spogliatori ridotti ad eruderi.